Porto il telefono, chi parla? Ah, ho capito chi farò. Parla sto cazzo, parla sto cazzo, che ho fatto? E non vuoi dire un cazzo? Parla sto cazzo? Pronto, pronto, non rispondi, ma chi è? Ho capito chi è? Pronto, ci parla sto cazzo. Ho capito. Ho capito chi è? Ho capito. Ho capito? Pronto, pronto, ci parla sto cazzo? Non mi interessa, non mi interessa. OLE! Sucesso! Non è il mio! OLE!